Onorevole, ormai è ufficiale, c'è anche lei nella lista del PDL in questa competizione elettorale per le regionali? Dopo un contributo significativo nella formazione delle liste del popolo della libertà in tutta la Sicilia, ho ritenuto in un contesto di grande emergenza, di grave crisi, di difficoltà concreta nell'impatto occupazionale, dove larghe fasce di disoccupazione giovanile caratterizzano ancora distintamente la regione siciliana, che scendere in campo e metterci la faccia poteva essere una soluzione appropriata. Questo ovviamente determinerà certamente un'aggregazione di molti amici che ovviamente hanno sostenuto questa proposta, ma quello che più conta è una lista forte, competitiva, che dimostra ancora una volta la vitalità di un popolo della libertà che dopo essere stato primo al Consiglio Comunale in città di Agrigento deve continuare ad esserlo in provincia di Agrigento. La straordinaria difficoltà di questo momento, che è europea e che è mondiale, richiede peraltro un governo autorevole e responsabile. L'obiettivo reale sostanzialmente vince, dare un'opportunità di crescita alle piccole e medie imprese, alla sana imprenditoria e dare spazio di edagibilità, per esempio, ai tanti giovani occupati precariamente, dei quali ci siamo occupati anche nei giorni scorsi, ma ancora pesca di fascia costiera, agricoltura, quelle aziende in grande difficoltà alle quali bisogna dare respiro anche sotto il profilo del credito di medio e lungo termine per garantire un livello occupazionale, elevandolo laddove possibile, che è il vero obiettivo di un governo che voglia essere davvero credibile e davvero rispondente alle attese della nostra comunità. E appunto da Europarlamentare lei spesso ha affrontato l'argomento della gestione dei fondi europei da parte della regione siciliana, una regione che normalmente ne utilizza ben pochi di queste possibilità che abbiamo fornite all'Unione Europea. In caso di elezione si ritroverà lei all'interno dell'Arsa a gestire, anche a cercare di gestire questi fondi? Sì, la questione dei fondi comunitari e strutturali della nostra regione obiettivo convergenza è stata una questione che ho attenzionato con grande rilievo e sono riuscito anche attraverso forti accelerazioni ad assicurare un percorso di maggiore forza all'interporto dei Termini, così come al porto di Siracusa, così come alla Siracusa Gere e anche all'agrigendo Caltanissetta, dove 321 milioni di euro da parte dell'Unione Europea assicureranno un'importante arteria e un collegamento sempre di crescente agibilità per i nostri cittadini. Fondi europei, ma nel contempo un'esigenza che è quella di garantire con lucidità una regione siciliana che ha il collasso. 5 miliardi di debito sono alla prova conclamata di un governo inefficiente, assolutamente non in linea con le attese della comunità e soprattutto incapace di governare una situazione di grave crisi emergenziale che con questo governo è cresciuto in maniera inesorabile, in maniera speriamo rimediabile soltanto attraverso un grandissimo sforzo di volontà da parte di ciascuno ed è una delle ragioni, se non la priorità per la quale io ho scelto di scendere in campo con la mia faccia, con la mia testa, con la passione e l'entusiasmo di sempre.